Barbagiani dovrebbe essere una femmina molto magra, praticamente ha subito un incidente, deve recuperare peso, l'ho presa ieri in situazione abbastanza critica. Sono contenta di dirvi che questo Barbagiani si è ripreso, ha quasi recuperato tutto il peso, trattandosi di un giovane dovrò accertarmi che riesca prima a cacciare le prede vive, quindi sarà un po' più lungo magari il percorso da fare prima di liberarlo. Questa è la coliera, ho messo l'acqua per bere e farsi il bagno, anche oggi ho mangiato due topi, lascerò aperta questa corticina in maniera che possa in autonomia decidere di andarsene o rimanere o ritornare come ora. Grazie